Un appuntamento molto atteso nell'ambiente bodistico che si rinnoverà per la ventunesima volta è la notturna città di Chieti intitolata al dottor Sandro Angeloni. L'appuntamento clou alle 20.30 si snoda lungo il collaudato circuito di 3,5 km da ripetere tre volte nel centro storico di Chieti, confermata anche la passeggiata dedicata alle famiglie con identica partenza alle 20.30. Alle 19 invece le partenze dei bambini e dei ragazzi. Pietro Perrucci, presidente dell'USA Climaraton Chieti che organizza la corsa. Molti dicono voi siete abituati, le fate tutti gli anni, ma ogni volta si riparte da zero. Economicamente, con il lavoro e su tutta. Per quanto riguarda invece il parterre degli atleti ricordiamo che in pratica le iscrizioni sono quasi chiuse perché le si potranno accettare anche il giorno stesso della partenza. Numeri, ma anche qualità perché ci sono delle conferme importanti. Attualmente già stiamo sui 400, c'è una diminuzione generale. Comunque, per quanto riguarda la qualità hanno confermato sia Benjamin che Marcella Mancini. Benjamin la quarta volta ha vinto quattro elisioni, Marcella se non sbaglio sette. C'è un nome nuovo, io personalmente non conosco, si chiama Gideon. Dicono che metterà fine al predominio di Benjamin. Il Comune metterà a disposizione un parcheggio gratuito in Largo Cavallerizza nei pressi del ritrovo. Finale con alcune raccomandazioni. Al momento della gara ricordo che il percorso è parzialmente chiuso al traffico con la rimozione delle autovetture lungo il percorso. Poi voglio ricordare che abbiamo messo a disposizione due bagni chimici oltre a uno spiazzo riservato per cambiarsi. Nel centro storico non è gradevole cambiarsi, per dire altro, in mezzo alla piazza e alla strada. Quindi abbiamo riservato uno spazio per fare questi servizi.